Ciao a tutti e benvenuti sul canale di Qualesceglier.it. Oggi parliamo di spazzolini e andiamo a analizzare le differenze fra gli spazzolini elettrici e gli spazzolini manuali. Andiamo quindi nel dettaglio. Allora, cominciamo dallo spazzolino elettrico. Lo spazzolino elettrico è uno strumento alimentato a batteria ed è composto da tre parti. Allora, abbiamo una base di ricarica, poi c'è il manico e infine le testine. Le testine sono chiaramente rimovibili e intercambiabili fra di loro. Fra i pro dello spazzolino elettrico c'è sicuramente la semplicità nell'utilizzo e soprattutto sono integrate alcune funzioni come a volte la presenza di un timer che aiuta l'utente a spazzolare omogeneamente tutta l'arcata dentale oppure anche la presenza di programmi dedicati a specifiche funzioni come per esempio a specifiche tipologie di pulizia per chi magari ha denti sensibili oppure per chi vuole sbiancare i denti. Inoltre un altro vantaggio è l'efficacia della pulizia perché risulta essere più profonda grazie all'azione della potenza e della velocità di movimento delle setole. Infine è ideale per tutti coloro che hanno difficoltà nell'utilizzo dello spazzolino manuale come per esempio i bambini oppure chiunque possa avere qualche difficoltà di tipo motorio. Fra e contro ci sono sicuramente il fatto che non è un tipo di spazzolino comodo da portare in viaggio perché è legato comunque alla sua base di ricarica. Più comodo in questo senso è lo spazzolino manuale e inoltre il prezzo è più alto quindi non adatto a tutti i budget. Passiamo adesso allo spazzolino manuale. Lo spazzolino manuale come dicevamo è sicuramente più pratico da portare in viaggio infatti il suo ingombre è veramente minimo e inoltre è internazionale non ha bisogno di ricarica non ha bisogno di adattatore. Inoltre il prezzo è veramente contenuto sicuramente è anche possibile acquistarlo in qualunque paese per una spesa veramente limitata. Per contro è sicuramente meno versatile nel senso che non dispone di alcun programma automatico e allo stesso tempo non ci sono testine intercambiabili e richiede per questo motivo anche più impegno da parte dell'utente. Ci vuole uno sforzo maggiore per aggiungere tutta la superficie dentale e anche gli spazi fra dente e dente. Infine bisognerà tener conto che il tempo di utilizzo è leggermente superiore rispetto a quello dello spazzolino elettrico. Sicuramente la scelta dello spazzolino è poi dettata da fattore di budget ed esigenze personali. Uno spazzolino elettrico è più vantaggioso per chi per esempio ha esigenze di una pulizia semplice o pratica e più accurata e soprattutto anche per chi magari ha problemi di tartaro oppure di placca. Normalmente è consigliabile avere a casa lo spazzolino elettrico mentre invece quello manuale potrebbe essere comodo per portarsi da portarsi in ufficio, in viaggio o magari quando si dorme fuori casa in generale. Se vi è piaciuto il nostro video iscrivetevi al nostro canale e seguiteci, noi pubblichiamo un video ogni settimana. Grazie per averci seguito, ciao!